Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla protesta dei commercianti del centro storico di Gela. Manca l'acqua da alcuni giorni ed i rubinetti sono a secco. Sollecitato un intervento immediato per risolvere il problema. Monta la protesta in pieno centro storico di Gela a seguito della mancanza d'acqua. Residenti e commercianti sono arrabbiati ed indignati, usiamo è chiaro, degli eufemismi. Sono costretti a ricorrere alle autobotti, una vera e propria mazzata, pochi giorni dalle festività natalizie. Rubinetti a secco. Proprio ora, nel momento in cui si registra un'affluenza di clienti, un tantino sopra la norma, considerato che, come dicevamo, siamo entrati nelle settimane che anticipano il Natale e dunque ci si organizza per l'acquisto dei regali. Da meno di 10 giorni che non arriva acqua. Addirittura già un paio di giorni che chiamiamo l'autobot perché se no non possiamo lavorare. Ma ci stiamo penalizzando e pagare l'autobot ogni giorno non è una cosa normale. Io ho provato ad andare a Cartacqua, Cartacqua mi ha dato il numero verde, dice che il numero verde dovrebbe essere quello che dovrebbe cercare di risolvere i problemi, ma quando sempre i problemi non si stanno risolvendo. Io parlo dei miei, ma ho visto anche gli altri che hanno dei autobotti che arrivano dovunque, però nessuno si sta lamentando. Forse io come bar ne consumo più di tanta, perciò io ho problemi. Io parlo a nome di tutti, dico ma come si fa a risolvere questo problema? Siamo a un periodo di feste e il Comune ci dovrebbe un po' aiutare, però quando sempre ho fatto anche una telefonata al Comune e il Comune mi ha detto che dovrebbe risolverlo, ma non si risolve niente. Qualche settimana dietro, Cartacqua, la società che gestisce il servizio idrico in provincia, aveva annunciato la distribuzione di urna nella zona centrale della città per evitare le nottate ai cittadini residenti. Ma l'acqua non arriva né di giorno né di notte. Avendo i serbatoi io normalmente non ho mai avuto problemi, io penso che manca anche più di una settimana. Si parlava anche di 15 giorni, però io penso che almeno più di 10 giorni. Ogni mattina ci stiamo penalizzando pagando l'autobot. Io penso che così noi chiuderemo. Spettacolare incidente stradale, lo vediamo dalle immagini. Questa mattina lungo la stradale Gela Catania, nei pressi del parcheggio Erg, a poche centinaia di metri dall'ingresso della città. Due auto, una Lancia Ypsilon ed una Fiat Idea, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. La Fiat Idea si è ribaltata, l'altra è finita sul ciglio della carreggiata. Gli occupanti del due auto, due ragazzi di 30 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. E adesso occupiamoci dell'arresto di due pregiudicati nisseni per rapina aggravata ed aggressioni nei confronti di due anziani disabili. Ad ammanettarli è stata la squadra mobile. Hanno aggredito con ferocia e inaudita, così come si legge dagli atti e come si vede dai filmati visionati dalla polizia, due anziani disabili per prendere loro il denaro che avevano con sé. Sono stati arrestati dopo due mesi di indagini due pregiudicati nisseni, Gaetano Giudici di 34 anni e Claudio Michele Maccaronio di 31 anni, colpiti entrambi da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caldanissetta Marcello Testaquadra su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica perso il Tribunale, Sofia Scappellato, con la quale è stata contestata ad entrambi una cruenta rapina con annesso pestaggio in strada ai danni di un 65enne disabile. A Maccaronio è stata inoltre contestata un'altra violenta aggressione ai danni di un 56enne, anch'esso disabile, massacrato di botte, oltre al reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale per aver fornito indicazioni mendaci sulla propria identità. Le indagini della squadra mobile, guidate dal Marzia Giustolisi, si hanno consentito di individuare i colpevoli e sono stati tratti in arresto. Cambiamo argomento, sarà inaugurata venerdì 16 dicembre alle 10 la nuova biblioteca scolastica della scuola primaria Enrico Solito, diretta da Crizia Nobile. Sarà intitolata alla memoria del maestro Razio Goldini, che ha insegnato in quella scuola per tutto il tempo della sua carriera, lasciando un ricordo indelebile nei suoi alunni. Tutto nasce dall'iniziativa di una classe particolare, quella formata dagli ex alunni del quinquennio 1964-69, che ha avuto l'onore di avere come guida il maestro Goldini, i quali, al momento della scomparsa del maestro, avvenuta un anno e mezzo addietro, hanno ritenuto più opportuno, al posto di comprare un mazzo di fiori, di regalare ciascuno di loro un libro alla scuola primaria, che avevano frequentato più di 50 anni fa. Durante l'iniziativa di venerdì sono previsti tra gli altri gli interventi della sindaco Domenico Messinese, dell'assessore all'istruzione Licia Bela e della dirigente scolastico Crizia Nobile. Per la famiglia di Razio Goldini parlerà la figlia, la professoressa Maria Concetta Goldini, e per gli ex alunni parlerà Cristoforo Cocchiara. Le associazioni nazionali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per domani una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si trarrà presso la Chiesa Sant'Agostino con inizio alle 18. La messa sarà ufficiata dal Vescovo della Diocese di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisara. È prevista la presenza, tra gli altri, del coro Perfetta Letizia San Giovanni. Interventi di decoro urbano in Via Trieste a Gela questa mattina in merito alla potatura degli alberi di arancio al lavoro, gli ex RMI. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco. Andiamo a dare un decoro meritato a questa importante arteria, anche commerciale, perché ci sono chiaramente negozi, gli arancetti erano in condizioni un pochettino problematiche e quindi abbiamo deciso di intervenire. Devo fare un plauso veramente in questo caso agli RMI, che tante volte sono criticati da parte dell'opinione pubblica, ma in realtà sono veramente un grande aiuto per l'amministrazione perché ci vengono a supportare in questo caso con interventi di potatura o nelle scuole piuttosto che anche piccoli interventi di pulizia e decoro urbano. Quindi il mio plauso va sicuramente al settore dei lavori pubblici che ha organizzato il lavoro, ma sicuramente agli operai, quindi agli RMI che stanno facendo questo intervento. Altri interventi in città? Assolutamente abbiamo già battuto 150 palme e triturate ovviamente, quindi stiamo intervenendo anche da questo punto di vista. e stiamo continuando senza fermarci sia con Gelas che con ditte private per velocizzare questo tipo di intervento. L'essenziale non è ciò che facciamo, ma come lo facciamo ogni giorno col cuore, la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Con questo spirito l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, l'ADMO, sezione di Gela, preseduta da Giacomo Giurato, in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, presentano l'evento Sorridiamo, una giornata in allegria donata ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Appuntamento domani alle 10.30, saranno consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi guidati dal docente Emiliano Sigora. L'evento, giunto alla terza edizione, è finalizzato alla promozione della donazione di midollo osseo, che ha come obiettivo quello di reclutare giovani donatori di midollo osseo, l'unico modo per garantire ai malati in attesa di trapianto una possibilità per riappropriarsi della loro vita. Sarà inaugurata venerdì 16 dicembre alle 18.30, nei locali del Palazzo di Città a Gela, la terza mostra di presepi in comune realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. L'iniziativa, il cui ingresso sarà completamente gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco. I presepi come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole, dell'artigiano-artista, della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. Sarà presente anche una bancarella di beneficenza della Soroptimist Club di Gela. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Durante l'inaugurazione sono previsti un intrattenimento musicale con la cantante Anna Salsetta, l'associazione Sergio Di Dio di Antonio Di Dio e degustazioni dolci e salate. L'accoglienza sarà curata dagli studenti dell'Istituto Alberghiero diretto da Grazio Di Bartolo. A benedire la manifestazione sarà Don Luigi Petralia. Il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'Epifania. Cominciano anche nella città di Caltanissetta le iniziative di solidarietà a sostegno della fondazione Teleton. Il 13 dicembre infatti sono stati allestiti all'interno del CEF Pass e per l'esattezza nei padiglioni 3, 11 e 13 dei banchetti per raccogliere fondi con l'obiettivo appunto di sostenere la ricerca. Impegnati a partire dalle 10 del mattino in questa iniziativa, gli studenti universitari di Sinapsis, guidati da Alessandro Alù, in collaborazione con Udu Palermo. Nello stesso giorno, previsto anche un altro banchetto a Resuttano, allestito per Teleton da un gruppo di volontari della locale Croce Rossa. L'impegno del coordinamento provinciale Teleton per Caltanissetta, grazie alla sinergia e collaborazione con altri enti, associazioni, scuole e non solo, continuerà anche nei prossimi giorni con l'organizzazione di altre manifestazioni. Sabato 17 dicembre infatti si svolgerà il primo torneo Caltanissetta per Teleton, mentre martedì 20 dicembre la seconda edizione della Partita del Cuore. Oggi abbiamo organizzato una raccolta fondi a favore di Teleton. Teleton è una fondazione che si occupa della ricerca contro le malattie genetiche da lontano 1990. Noi abbiamo proposto questa iniziativa ieri a Palermo, al Policlinico di Palermo e al Viale delle Scienze. Oggi siamo qui a Caltanissetta, al Cefas, presso i padiglioni 3, 11 e 13, a vendere appunto dei prodotti Teleton per aiutare la ricerca. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare gli studenti di medicina e non solo, per aiutare Teleton contro la ricerca delle malattie genetiche. Sì, diciamo che la raccolta è andata abbastanza bene. Ora speriamo che durante la pausa pranzo riusciamo ad aumentare la nostra raccolta. Già diciamo che l'importo è abbastanza buono, tra la raccolta di ieri a Palermo e quella di oggi che si è rappresentata a Caltanissetta. A Caltanissetta si svolgerà principalmente oggi dalle 10 alle 19, mentre a Palermo si è svolta ieri e continuerà oggi e domani. Il messaggio per i giovani è che la ricerca aiuta moltissimo contro questo genere di malattie, infatti grazie alla ricerca sono state sconvitte molte malattie genetiche, dapprima non si conoscevano appunto le cure contro queste malattie, e che appunto dobbiamo aiutare la ricerca affinché si riescano a sconviggere queste malattie rare. Soprattutto in Italia appunto la ricerca non è per nulla considerata. Presso il Dipartimento Salute Mentale di Gela, in Via Madonna della Rosario, numero 8, diretto da Franco Lauria, il personale in servizio ha allestito un presepe per ricordare la natività. Il presepe può essere visitato da tutti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 nei giorni feriali e il sabato dalle 10 alle 13. Dal 16 al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre nella suggestiva Piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, antistante la parrocchia Santa Maria di Bettele Magela, si terrà il presepe vivente con i tradizionali personaggi, gli usi e i costumi del periodo della natività. Gli orari sono dalle 18 alle 23, la mattina l'apertura è dedicata alle scuole e torna il presepe vivente allestito dall'associazione Smaffo, preseduta da Gaetano Davide Arizzi, appuntamento ai prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte. All'ingresso del presepe, via Casale Angolo Piazza Salandra, al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte sarà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote, non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti e puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, il comitato femminile della pubblica assistenza Procivis, protezione civile di Gela, in occasione delle prossime festività natalizie, organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti. La raccolta di cibi non deperibili, rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa, avviene presso la sede della Procivis in via Ossidiana 23 fino al 22 dicembre. dalle 15.30 alle 20.30. La distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre, subito dopo il consueto progetto natalizio dei volontari, previsto per le 19.00. Si darà domani alle 17.00 nell'auditorium dell'eliceo classico Eschilo di Gela, diretto da Giochino Pellitteri, la presentazione del libro L'Udibrio Sibi Haber di Federico Efer, l'iniziativa è dell'Uni3 preseduta da Angela Scaglione. Introdurrà i lavori di Borio Mingoglia, docente e responsabile culturale Uni3. E adesso parliamo di teatro. Oggi e domani alle 21.00 all'antidoto di Gela si ride con la stagione teatrale. Ne abbiamo parlato con Emanuele Giammurso. Oggi e domani un appuntamento importante con l'inizio dello spettacolo previsto per le 21.00. Cosa vedremo? Cosa vedremo? Una casa da pazze, perché noi questi siamo. Io e Guglielmo e Lori con Maria Grazia Sanzo. Una commedia bellissima di D'Alessandro, una commedia che parla di tutto, di pazzia, di matrimonio che si rompono, di amante, insomma. È un mixer perfetto. Vi siete trovati dunque meraviglia per interpretare questa rappresentazione. Certo, a nostro agio si dice. Sì, sì, benissimo, ci siamo trovati. Il copione è un po' particolare, però è divertentissimo. Basta sapere che Guglielmo fa un pesacchiatrico, si è chiamato un pesacchiatrico, e allora, guarda, la commedia è già tutto un da fare. E la pre-vendita com'è andata al momento attuale? Allora, lo dico e lo ripeto, la pre-vendita è andata bene, ma ci sono tantissimi posti. La gente dice tanto all'antidoto, quando ci sono loro i posti non ce ne sono. Non è vero. Possono venire tranquillamente, anche all'ultimo momento troveranno il posto. Ci sono ancora centinaia di biglietti liberi, fra il mercoledì e il giovedì. Ma non soltanto teatro, c'è anche una chicca che oggi sveliamo ai nostri telespettatori, parliamo di cinema, perché tu e Guglielmo avrete una parte importante nel film di Ficarra e Picone. Sì, abbiamo avuto questo provino inaspettato, così ci hanno chiamato tramite amici, è riuscito bene. Io a settembre ho registrato le mie due scene, Guglielmo ha registrato le quattro scene, lui farà il vigilo urbano, io invece farò uno che va al comune a domanare la raccomandazione per una carta di identità. E poi lavorare con Valentino e Salvo è uno spettacolo. Siciliani come noi sono. Il film si intitola? L'ora legale, ma l'ora legale perché dice arriva l'ora legale, non è l'ora legale la luce, è l'ora legale perché lui è il cognato del sindaco da oggi in poi, l'ora legale. Quando vedremo il film? Inizierà, diciamo, il debutto è il 19 gennaio 2017 in tutte le sale d'Italia, ovunque vi trovate, anche all'antidoto. Oltre ai Parigi è il libro di Salvo Andò e Anna Lucia Valvo che sarà presentato venerdì 16 dicembre alle 17.30 nell'ex chiesetta San Biagio di Gela nell'ambito dei venerdì letterari promossi dalla libreria Mondadori e dall'assessorato comunale alla cultura. Saranno presenti gli autori, introdurrà i lavori Angela De Maria. Appuntamento con la musica, domenica 18 dicembre alle 19 nella chiesa Sant'Antonio di Gela. È previsto il recital pianistico di Niccolò De Maria. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.